La nave cinese della Discordia è arrivata nello Sri Lanka. La Yuan Wang 5 è entrata martedì mattina nel porto di Ambantota, dopo aver ottenuto dalle autorità il permesso, a condizione che venga utilizzata in attività non sospette. La nave, che ufficialmente si occupa di ricerca scientifica, era attesa già la scorsa settimana, ma lo Sri Lanka aveva chiesto un rinvio a causa delle obiezioni di India e Stati Uniti che la considerano una nave spia.